E alla fine hanno riaggiunto la skin scheletro nello shop e questa cosa mi ha fatto sorgere tantissimi dubbi nella mia testa, uno su tutti. È giusto o è sbagliato il fatto che abbiano aggiunto, riaggiunto anzi questa skin nello shop? Io ve lo chiedo subito e voglio sapere la vostra sotto nei commenti e magari votate anche i sondaggi qui in alto a destra nelle schede. Qui in alto a destra nelle schede vi lascio due sondaggi, diciamo così. Uno dove mi dovete dire se è giusto o sbagliato e il secondo se la andrete a scioppare. Ovviamente per quanto riguarda il primo sondaggio, ovviamente poi fatemi sapere il perché sotto nei commenti. Cioè fatemi sapere perché secondo voi è giusto e l'abbiano raggiunta e perché secondo voi è sbagliato il fatto che abbiano raggiunto la skin scheletro. Ma io non vorrei soffermarmi troppo su questo discorso, anche se ovviamente ne andremo a parlare. Voglio soffermarmi anche su tanti altri discorsi molto più importanti da questo punto di vista. Perché il fatto che abbiano raggiunto la skin scheletro, quelli dell'Epic Games, vuol dire che fanno tantissimo fanservice. E questa cosa mi ha fatto pensare moltissimo a cos'è il fanservice. Il fanservice è quando ad esempio un'azienda come l'Epic Games che ha un gioco con una community immensa, sa cosa chiede la community e glielo fa avere. Quello è fanservice. E ovviamente la skin scheletro era penso la skin più richiesta da tutta la community. E quindi tac, è arrivato Halloween, l'hanno ripiazzata nello shop. Questo è il fanservice. E l'Epic Games lo fa parecchio. Ma arriviamo anche a quel discorso. Quindi, dato che abbiamo parecchie cose di cui parlare, ho deciso di fare questo video dove parliamo e basta. Ma io vi invito a guardarlo fino alla fine perché secondo me è un discorso abbastanza interessante. Soprattutto, raga, fatemi il favore di farmi sapere la vostra sotto nei commenti. Ve lo ripeterò cento volte in questo video. E lasciate anche un bel mi piace se vorreste nei prossimi giorni un bel gameplay con la skin scheletro. Perché ovviamente anche io la andrò a shoppare. Ma vabbè, quello è un altro discorso e ne andremo a parlare nei prossimi video. Allora, prima di andare a parlare del discorso fanservice, che non si tratta solo della skin scheletro ma si andrà a parlare di tante altre cose, voglio soffermarmi sul discorso che è giusto o è sbagliato. Io vi dico subito che sono da entrambi le parti. E poi farò un discorso generale. Magari dal punto di vista dell'Epic Games. Allora, perché è giusto che sarà la risposta più scontata e banale del mondo? È giusto perché tutta la community la voleva. Compreso io. E quindi da una parte ci sta che l'hanno riaggiunta. Ci può anche stare. Il problema qual è? Il problema è che secondo me questa skin aveva raggiunto lo status di sacro. Perché questa skin veramente aveva raggiunto livelli assurdi di rarità, diciamo. Cioè, tutti la volevano. Proprio perché era bella, perché è figa. Poi ovviamente può piacere o non piacere. Magari a qualcuno di voi non piace. Però in generale piace un po' a tutti. E la volevamo un po' a tutti. Ma proprio perché era rara la volevamo un po' a tutti. Ora che l'hanno riaggiunta nello shop perde. Perde quel, boh non so, quel pepe che dava un po' alla sua immagine. Cioè perde quella freschezza quando parli della skin scheletro. Adesso quando parlerai della skin scheletro starai parlando di una normalissima e comunissima skin. Che fino all'altro ieri non era. E quindi qui andiamo a parlare più che altro dei player nello specifico che avevano già la skin scheletro. Tra l'altro da quanto ho capito chi aveva già la skin scheletro avrà uno stile in più da mettere per la skin. Non lo so, ho capito. E comunque hanno qualcosa in più per quanto riguarda la skin scheletro. Confermatelo sotto nei commenti perché ho provato un po' a informarmi ma non ho trovato nulla. Comunque detto questo c'è da fare un discorso importantissimo. Ovvero che questa skin è uscita ai tempi a sempre verso fine ottobre. Quindi stiamo parlando di un periodo in cui Fortnite non era ancora esploso. Io già ci giocavo però ancora non shoppavo. Quindi non ho mai preso le skin praticamente prima di gennaio. Quindi ho le skin veramente rare. In realtà non ce l'ho. Avevo solo il pass battaglia. Quindi qualche skin veramente rara ce l'ho. Però non avevo quelle veramente veramente rare. Tra cui era. Perché ormai non lo è più la skin scheletro. E quindi tu Epic Games sei andata a togliere un vanto. Perché era un vanto avere la skin scheletro perché voleva dire veramente giocare dagli albori di Fortnite. E avere una delle skin più fighe che ci siano mai state sul gioco. Hai tolto il vanto a chi ti supporta dall'inizio. E' quello fondamentalmente l'errore. Cioè io adesso d'ora in poi ogni volta che vedo una skin di festività o di ricorrenze. Già so che tanto la riaggiungeranno se piacerà. E quindi si perde anche un po' quel oddio sì che figata la prendo perché poi non esce più. E' ovvio. All'Epic Games non importa. Anzi per loro è meglio così. Più volte va nello shop una skin bella più guadagneranno. Quello è ovvio. Chissà i soldi che hanno fatto riaggiungendo la skin scheletro nello shop. E neanche gli si può dire nulla. Io per quello dico che hanno fatto anche bene. Sia per il fanservice ma anche per loro stessi. Alla fine ci sta anzi. Meglio che fa tanti soldi l'Epic Games. Almeno si mette sempre sotto e ci fa sempre belli aggiornamenti. Ma comunque detto questo torniamo al discorso che purtroppo non sapremo mai se una skin riapparirà nello shop o no. E fidatevi non è tanto bello. Soprattutto perché ha iniziato a giocare da tanto tempo. Ad esempio mettete caso la skin scheletro non fosse più stata aggiunta nello shop. Tra 4 anni se magari si continuerà a giocare a Fortnite no? E qualcuno ha la skin scheletro? Cavolo ma tu hai la skin di Halloween del 2017. Porca miseria. No. Ormai si è persa perché è uscita anche nel 2018 ed è molto meno rara. Perché il boom lo ha avuto. Non credo possa ancora salire a livelli ancora più alti. Fortnite ha raggiunto livelli assurdi. Ormai si andrà solo a scendere. E quindi quella skin ha perso completamente di valore. Perché è riuscita in un momento di boom. Tra l'altro una skin molto molto voluta dalla community. Quindi chissà quanta gente l'avrà shoppata. E quindi si perde un po' quel valore. Ad esempio per farvi un esempio concreto. Clash of Clans. Clash of Clans ogni anno fa uscire degli ostacoli nel villaggio. Durante le festività e ricorrenze. Appunto a tema Halloween. A tema natalizio eccetera eccetera eccetera. Che negli anni successivi non riescono. Quindi quegli ostacoli. Per esempio l'ostacolo di Natale del 2013. Ce l'hanno solo i giocatori che giocano dal 2013. E fidatevi. È figo da raccontare. Cioè è bello poi. Così si va un po' a perdere quell'effetto. Quindi boh non mi piace molto questa cosa ragazzi. Vi dico la verità non mi piace molto. Però ora qui arriviamo al discorso fanservice. Ovvero il fatto che l'Epic Games faccia un botto di fanservice. Ed è vero. Vi faccio un altro esempio. Clash Royale. Clash Royale non dico che ha avuto il boom come Fortnite. Ma sappiamo tutti che per un anno intero c'era solo Clash Royale su YouTube. No? Quindi vuol dire che comunque ha avuto un momento di apice altissimo. E ovviamente tanti leak, quindi tante notizie non ufficiali ma comunque diciamo prese da fonti semi ufficiali eccetera eccetera eccetera. Ce n'erano una marea. Ce n'erano veramente una marea, un sacco di teorie eccetera eccetera eccetera. Venivano mai prese? Quasi sempre no. Cioè penso di quei leak che uscirono di Clash Royale il 10-20% si avverava. Ma a dire anche tanto. Quindi le domande o comunque le cose plausibili sono due. O che la Supercell ha dei server molto più protetti rispetto... Ho avuto un singhiozzo bruttissimo ma va bene. O ha appunto dei server molto più sicuri rispetto a quelli di Epic Games. Oppure Epic Games lo fa apposta. Cioè nel senso fa uscire delle notizie che poi diventeranno ufficiali. Perché tante essendo il gioco del momento tutti ne parleranno. Escono tutti questi leak e l'Epic Games dopo aver visto la reazione del web a quei leak decide se effettivamente aggiungerli o no. Perché raga è allucinante che il 70-80% dei leak che ci stanno su Fortnite poi si avverano. Perché fatalità poi sono tutte cose fighe che quindi poi vengono aggiunte. Ad esempio questa cosa dello Skull Trooper. Io l'ho sentita una settimana fa. Eppure non ci credevo perché dico ti pare che l'Epic Games riaggiunge una skin così rara? Sapendo di aver creato veramente un qualcosa di veramente speciale la fa uscire così nello shop. Ha visto che la community ha risposto in maniera positiva. Che tutti scrivevano sì tanto la shoperei sì la voglio sì la voglio sì la voglio. L'ha ributtata nello shop perché ovviamente gli conveniva. Quindi è un po' ascoltare quello che dice la community e poi riproporlo sul gioco. Che da una parte è buono perché comunque fino adesso se ci pensate bene ogni qual volta hanno fatto un aggiornamento che poi la community ha reputato sbagliato hanno modificato. Ad esempio il rampino 15 colpi tac tutti a lamentarsi 10 colpi. Mitragliette super mega forti tac diminuito il caricatore del pin 90 diminuiti i colpi da lontano non levano più nulla. Sono diventate molto meno imprecise ci sta. Poi ovvio non possono fare fanservice su tutto come quando hanno tolto il double pump o che i pompa levavano poco. Tutti che rivolevano i fucili a pompa come prima non l'hanno fatto perché secondo loro era squilibrato. E adesso secondo me abbiamo un gioco tutto sommato abbastanza equilibrato. C'è sempre qualche arma più forte rispetto a un'altra che dovrebbero essere un po' più equilibrate. Ma fondamentalmente abbiamo un gioco davvero equilibrato finalmente direi. Perché prima non venivano mai prese le mitragliette poi tutti a prendere le mitragliette. C'è stato un periodo dove praticamente i lanciagranate e i lanciarazzi servivano per forza per vincere le partite. Poi hanno modificato un po' anche quello. Le ascoltano la community e quindi poi si ritrovano a fare del becero fanservice. Che secondo me questa volta con la skin scheletro potevano risparmiarsi. Detto questo io vi dico solamente che al posto di aggiungere maschio e femmina avrei riaggiunto solo la femmina. Per fare una cosa figa così il maschio rimaneva quella skin sacra che era prima. Aggiungevi solo la femmina e vi invece hanno voluto fare un po' sta porcata ma vabbè. Comunque ragazzi fatemi sapere la vostra sotto nei commenti e soprattutto rispondete ai soldaggi qui in alto a destra nei commenti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno... No nei commenti, nelle schede scusatemi. Comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso. Grazie mille ragazzi. Scusatemi se ogni tanto faccio questi video un po' diversi dal solito. Ma lo sapete a me piace parlare quando succedono queste cose. Devo assolutamente dire la mia se no mi escono le bolle. E nada. Iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. E niente ragazzi noi ci troviamo o dopo il live magari anche qui su youtube o su twitch. Oppure domani o un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi. Ciao.